In collaborazione con Buonasera amici e amiche che ci seguite da casa e bentrovati alla riflessione, che è un programma nuovo, semplice, con lo scopo di creare informazione politica, economica, sociale e culturale. Anche questa sera è qui con noi il nostro esperto della società civile, l'Avvocato Michele Cutolo. Buonasera a tutti voi. Questa sera parleremo del mondo dell'agricoltura campana e lo faremo con degli ospiti di eccezione. E qui in studio con noi l'assessore all'agricoltura della Regione Campania, il dottor Nicola Caputo. Salve, salve a tutti. L'assessore Caputo è stato anche deputato al Parlamento Europeo, membro effettivo della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e membro sostituto della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza ambientale, della Commissione per i bilanci, della Commissione per la pesca e della Commissione per i trasporti e il turismo. Membro dell'Aggiunta regionale di Confindustria Campania e Presidente del Consorzio Agroalimentare di Caserta e Presidente del Consorzio di Amministrazione del Consorzio Vini del Sud. Buonasera e benvenuto, Norevole Caputo. Salve a tutti. Abbiamo invece in collegamento l'agronomo Gennaro Fusco, imprenditore locale, responsabile tecnico della Meds Fruits SRL, import ed export di frutta fresca e secca, responsabile tecnico del Fusco Legnami Agricoltura, attività nel campo della selvicoltura e della coltivazione delle castagne, ed è il Presidente del Consorzio di Imprese Agricole Terre Campane, aziende che lavorano in diversi livelli della filiera in guscio, essenzialmente nocciole e castagne. Buonasera e benvenuto, Dottor Fusco. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, io inizierei subito, Dottor Fusco, con lei che è in collegamento, e le chiederei se ci può spiegare quanto quest'anno sia stato difficile. Le industrie agricole non solo sono state colpite dalle chiusure dovute alla pandemia, ma quando hanno potuto riprendere, seppur con delle limitazioni, la loro attività ha dovuto anche affrontare un inverno particolarmente rigido e ricco di ghiacciate. Ecco, quanti danni ha prodotto quest'anno? Mi permette di scendere la sua domanda in due, al fine di offrire una maggiore chiarezza, anche perché così l'ho letta. Quindi da un lato abbiamo il Covid-19 e dall'altro le recenti gelate, due drammi che, giustamente come diceva, si sovrappongono, ma che trovano risposte diverse. Il Covid-19 ha fermato l'economia mondiale, non è risultata immune chiaramente l'agricoltura campana, nonostante soprattutto quella legata al codice Ateco 01, cioè quindi l'agricoltura da coltivazione, non si sia credo quasi mai fermata neppure nel momento di piena pandemia. Ecco, piuttosto direi si è fermato l'intero indotto, quindi pertanto è venuto a mancare il mercato della domanda. Veniamo ai danni. I danni che la pandemia ha provocato sono catastrofici, perché di una catastrofe stiamo parlando. Per comprenderli, per farli meglio comprendere, faccio una rapida premessa. Se consideriamo la classica torta dell'economia, il sistema agroalimentare campano, con il suo valore aggiunto di circa 4 miliardi e mezzo, ha il 4% di questa torta, che è un valore molto grande. Basti pensare che dai dati Istat 2018, se non erro, 7 miliardi e mezzo provenivano dall'agroindustria, che il più alto valore tra le regioni meridionali è tra il più alto a livello italiano, nazionale. Questo per far comprendere cosa sia, in termini numerici, l'agroalimentare campano. Credo che con la pandemia l'intero indotto si sia più che dimezzato per grosse linee. Questo perché l'indotto da scaffali ha tenuto, io quando dico indotto da scaffali intendo dire supermercati, ha grosso modo tenuto. Se invece pensiamo all'indotto da ristorazione, quindi enogastronomia, agriturismi e turismo rurale, ecco, in questo caso qui il comparto si è praticamente azzerato. Faccio una riflessione. Io credo fermamente che nel post-pandemia, e credo di avere, voglio dire, nell'assessore un sicuro alleato, credo che l'agroalimentare possa essere protagonista di una rinascita non soltanto dell'agricoltura ma anche della campagna. Veniamo al secondo punto della domanda, quello delle gelate. Bene, io più che di inverno rigido mi soffermerei, ecco, sull'ultimo periodo, sugli ultimi mesi. Perché? Perché siamo stati costretti a rapidi cambiamenti della temperatura. Cosa è successo? La temperatura elevate di qualche settimana fa hanno determinato il cosiddetto risveglio vegetativo delle coltivazioni legnose. Di contro il repentino calo termico ha comportato la gelata e quindi temo una delle peggiori gelate d'aprile degli ultimi anni. Perché? Perché le coltivazioni erano in fioritura, pertanto sono state colpite in un momento di massima fragilità. E vengo alla risposta. Volendo parlare di quantificazione del danno, credo ci sarà un taglio tra il 50 e il 75% della PLV. Difficile però è quantificare in termini economici perché siamo ancora in itinere. Ad esempio nel settore corilicolo, cioè il settore al quale sono più vicino, mi aspetto una forte variabilità nei mesi a venire del prezzo di acquisto del prodotto in guscio dalle industrie. Quindi ci sarà un danno sulla PLV particolarmente importante sicuramente, ma difficile oggi è quantificarlo. Ne approfitto per dire che proprio l'assessore Caputo ha annunciato a tale riguardo di aver già attivato la procedura di stato di calamità naturale. Da tecnico spero che agli aiuti giungano il più presto possibile e quindi la macchina burocratica sia rapida. Anzi, se mi consente, ne approfitto per lanciare una sorta di appello, cioè ai telespettatori in veste di imprese agricole chiedo di segnalare ai propri comuni i danni avuti al fine di permettere poi di accertare tali danni ed avviare la procedura presso gli enti sovracomunali. In questo va dato atto che la Regione Campania è stata pronta ad intervenire. Ecco, grazie dottor Fusco. Nel frattempo l'assessore sicuramente adesso ci si aggancerà a quello che lei diceva e ci fornirà le prime risposte su quello che giustamente diceva il dottor Fusco per poi agganciarci un pochettino allo storia di salute dell'agricoltura campana nell'epoca post-covid, appena superato covid, se così possiamo dire, in questa fase. Prego, assessore. Intanto grazie per l'invito, ci consente di fare una riflessione sull'agricoltura ed è sempre opportuno parlare di questo bellissimo settore. Complimenti anche all'ospite, a Francesco Fusco, anche per la puntualità delle osservazioni che ha fatto. Parto dal covid. La Regione Campania è stata l'unica regione che ha messo in campo misure di sostegno all'agricoltura. L'agricoltura non è stata direttamente particolarmente colpita dalla pandemia perché grazie a Dio abbiamo riscoperto il valore dell'agricoltura. Il settore primario finalmente è stato riscoperto come principale, però indirettamente ha subito notevoli danni e il presidente De Luca ha voluto l'anno scorso immediatamente inserire l'agricoltura tra i settori maggiormente in crisi. Abbiamo adottato due tipi di misure, uno di natura generalizzata a tutte le imprese agricole e poi abbiamo sostenuto in maniera più forte, cosa che stiamo continuando a fare, alcune delle filiere maggiormente colpite. Mi rischio agli agriturismo, al settore floridaistico, a quello zootecnico e anche a quello vitivinico. Detto questo vado al secondo punto perché quest'anno sembra che i guai non smettano mai e la felice illustrazione che ne ha dato il giovane imprenditore è il chiaro esempio. Purtroppo queste condizioni meteorologiche delle ultime settimane hanno determinato notevoli danni all'agricoltura. Noi stimiamo in diverse migliaia di ettari, diciamo, quelli colpiti da queste condizioni di maltempo e i danni saranno sicuramente considerevoli. Abbiamo sollecitato tutte le nostre, attraverso anche le associazioni di categoria, abbiamo sollecitato a dichiarare, a informare anche direttamente la regione di questi danni. Mi ha fatto bene a ricordarlo Fusco perché noi dobbiamo fare le opportune verifiche, quantificare questi danni e ovviamente con una delibera di giunta poi rappresentare al governo la richiesta complessiva della nostra regione. Una regione che sta ovviamente al fianco della propria classe imprenditoriale, della propria agricoltura, ma una regione che ha la necessità anche di fare maggiormente sistema e sono felice di riscontrare anche imprenditori capaci e lungimiranti come Fusco che abbiamo appena ascoltato. Sì, ma infatti tra l'altro credo che lei ha iniziato da pochi mesi il suo mandato alla regione Campania e non solo dalle parole del dottor Fusco ma anche nell'ambiente dell'agricoltura campana si apprezza molto le sue iniziative. Una delle questioni che adesso in questi giorni si sta dibattendo lei molto e che questo ovviamente è importante e che sappiano anche i telespettatori, è quello sul recupero di ingenti somme che sono destinati al mezzogiorno e all'agricoltura, in particolare alla Campania. Si parla di quasi 153 milioni di euro di disparità tra le regioni del nord e le regioni del sud, in particolare alla Campania. Ecco, sotto questo aspetto per i fondi futuri, per i piani agricoli regionali, eccetera, che prospettive ci sono? Intanto stiamo cercando di scongiurare questo vero e proprio danno che l'agricoltura campana in generale delle regioni del sud potrebbe registrare da questa arroganza, io l'ho definita, delle regioni del nord. Spiego velocemente qual è la questione. Il nuovo ciclo di programmazione in agricoltura partirà dal 2023. Ci sono due anni, il 2021 e il 2022, che sono definiti per regolamento comunitario di transizione, cioè nuove risorse con le vecchie regole. Nel 2014 si decise, nella conferenza delle regioni, di modificare questi criteri, senza dire quali. Ovviamente hanno preso spunto da questo impegno assunto in quell'epoca e 15 regioni di questo paese hanno proposto una modifica di questi criteri storici. Questa modifica, proponendo peraltro dei modelli matematici basati su altri concetti assolutamente incongrui e non pertinenti con la tipologia di fondo a cui ci riferiamo, comunque hanno proposto questo modello che determinerebbe solo per la Campania circa 153 milioni di euro di diminuzione e 400 milioni circa per tutte le regioni del sud. Ovviamente abbiamo fatto muro contro questa richiesta. C'è stata la presa di posizione anche di tutti e sei i presidenti delle regioni. Innanzitutto il nostro presidente De Luca è intervenuto più volte su questa questione. Ora siamo nella fase di trattativa. Il dramma è che si è inserito in questo... non c'è stata l'intesa nella conferenza delle regioni e quindi il ministro dell'agricoltura, delle politiche agricole, avrebbe dovuto fare una proposta di mediazione. Purtroppo la proposta che ne è venuta fuori non è stata addirittura peggiore di quella che stavamo trattando. E comunque adesso abbiamo riattivato il dialogo perché penso che le istituzioni hanno il dovere e la responsabilità di confrontarsi sui numeri. Abbiamo dichiarato comunque la nostra disponibilità ma non possiamo consentire diciamo alcuna perdita per il nostro settore. Quindi ci avvieremo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni spero a definire questa che stava per essere forse abbiamo l'ultimo momento diciamo cambiato direzione stava per essere davvero una brutta pagina dell'agricoltura campana. Ecco, lei ha creato anche un gruppo, una commissione di esperti per poter poi distribuire equamente questi fondi europei quando arriveranno. Ecco, nella nostra regione come verranno distribuiti? Ma intanto la necessità di... io da quando mi sono insediato come assessore all'agricoltura ho cercato innanzitutto di recepire le istanze dei territori, le istanze degli imprenditori, quelle delle associazioni, del mondo accademico, del mondo dei professionisti. Poi, venendo fuori da un'esperienza che non è stata proprio brillante, quella del vecchio PSR, abbiamo messo in campo un gruppo di esperti, un gruppo davvero sinergico di professionalità di questa regione e non solo per individuare meglio i nostri fabbisogni e per soprattutto calare meglio queste misure sul nostro settore. In particolare, io avevo riscontrato che il vecchio PSR leggeva poco la nostra agricoltura e quindi abbiamo cercato di ampliare un poco il nostro orizzonte, abbiamo messo in campo... stiamo mettendo in campo una riflessione importante, soprattutto per rafforzare le filiere più rappresentative della nostra agricoltura. Noi siamo la regione che forse con la più grande biodiversità, abbiamo un numero considerevole di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, siamo dal punto di vista, io lo definisco, tra virgolette, poetico, siamo riconosciuti come una regione nella quale si mangia bene, ma purtroppo sui mercati questo non lo registriamo ancora. E allora dobbiamo fare in modo di rafforzare le nostre imprese, rafforzare le filiere più rappresentative e lo stiamo facendo anche in un contesto nel quale dobbiamo anche chiudere una pagina che non è proprio bellissima per la nostra regione. Uno dei punti centrali del PSR era quello di attrarre i giovani in agricoltura. Io anche da Parlamento europeo me ne sono occupato molto, sono stato relatore a un dossier sui giovani in agricoltura, ma purtroppo in questa regione abbiamo registrato pochissimi bandi, quindi siamo fermi al 2018, quindi tutti i giovani che al 2018 in poi hanno manifestato questa intenzione di avviare una nuova attività non hanno avuto la vicinanza della nostra regione, ma abbiamo commesso degli errori anche rispetto a chi ha risposto a quel bando. Perché dopo tanto tempo, dopo più di tre anni, tre anni e mezzo, non siamo ancora stati in grado di rispondere adeguatamente. I fondi però ci sono. I fondi ci sono, siamo la regione in Italia, forse in Europa, questa è una cosa che vorrò verificare, che ha impegnato maggiori risorse per i giovani, solo l'ultimo bando oltre 150 milioni. Purtroppo si è ingenerata nell'opione pubblica questa esigenza per cui chiunque presenta la domanda deve essere, purtroppo le risorse non sono infinite e quindi noi dobbiamo alzare un po' l'asticello della qualità della nostra progettazione. Perché quando un imprenditore del genere, ma quando noi tutti ci voltiamo alle spalle, e guardiamo un po' quello che è stato fatto di diversi cicli di programmazione delle risorse europee, riscontriamo che non è avvenuto proprio in Italia quello che è avvenuto nel resto delle regioni d'Europa. Quindi forse una maggiore attenzione alla qualità della spesa dobbiamo prestarla. Dottor Fusco, secondo lei, visto che tra l'altro lei si occupa anche di export e import, di prodotti tipici nostri che vanno in America, se ho capito bene, soprattutto per quanto riguarda la lavorazione del prodotto gusciato, eccetera. Quali difficoltà trova adesso un'impresa a fare questo tipo di import o export? E soprattutto quali problemi presenta la filiera per quanto riguarda la gestione o l'accesso a questi fondi per i giovani imprenditori, ecco, agricoli che vogliono avvicinarsi al mondo dell'agricoltura, di cui come giustamente diceva l'assessore Caputo, la Campania potrebbe rappresentare una punta di diamante del paese. La burocrazia. Sempre quella, sempre quella. In ogni trasmissione che facciamo ci troviamo sempre di fronte allo stesso problema. Soprattutto quando si parla di pubblica amministrazione, purtroppo è così. Da questo punto di vista però, caro Gennaro, da questo punto di vista ti do uno stimolo e un input. Abbiamo costituito in seno a questo comitato per la nuova programmazione un gruppo di lavoro trasversale per la sburocratizzazione e la semplificazione. Dobbiamo smetterla in questa regione di essere diffidenti nei confronti dell'impresa agricola e di chi si interfaccia con la regione. Anche questa mattina ho fatto degli incontri per agevolare sempre di più questo tipo di interfaccia. Io vorrei che la regione Campania fosse valutata, diciamo così, per quello che accadrà da questo momento in poi. Ti assicuro che questo è l'incipit fondamentale che abbiamo dato alla nuova programmazione. Il secondo è quello di dare certezza agli imprenditori. Io vorrei che in qualche modo l'imprenditore sapesse già da oggi quando saranno emessi i bandi per le singole misure in quest'anno e negli anni a venire. Una sorta di calendario a cui l'imprenditore può fare riferimento e non aspettare a quando gli uffici si decidono di emettere un bando. E questo sarebbe già un punto di partenza. Dottor Fusco, se voi avete una buona programmazione anche per quanto riguarda l'attività vostra. Dottor Fusco, per quanto riguarda invece l'ecosistema, lei come Consorzio Terre Campane sta facendo, il Presidente del Consorzio Terre Campane sta facendo anche una questione per quanto riguarda il problema del fumo emesso dopo la pulizia sui campi, soprattutto in periodo estivo immagino. E questo spesso provoca incendi con le conseguenze che tutti noi conosciamo bene. Ecco, quali sono le problematiche principali e cosa potrebbe fare un assessorato all'agricoltura sotto questo aspetto? Allora, faccio una premessa. In un recente report dell'ARPAC, se non erro sulle fonti inquinanti, proprio in fase di contagio da Covid-19, quindi molto recente, venivano analizzate le diverse fonti inquinanti. Quindi, rifacendosi alla solita torta, quella torta economica che a me piace sempre richiamare, fatto 100 le fonti da inquinamento da PM10, l'ARPAC le analizzava per scaglioni. Ecco, l'incidenza dei riscaldamenti domestici sulla formazione delle PM10, in assenza di traffico veicolare, perché nel periodo di Covid il traffico veicolare non c'era, si attestava intorno all'80%. L'incidenza del traffico veicolare intorno al 5-10%, l'industria sul 10%. Quindi, credo sia evidente che siano gli involucri dei nostri edifici privati o pubblici il grosso di questa torta. Se a questo sommiamo sistemi impiantistici non ottimizzati e l'utilizzo quasi nullo delle rinnovabili, ecco, credo che abbiamo un'idea abbastanza chiara di dove provenga il problema. In questo, personalmente, ribongo grossa speranza nell'eco-bonus se dovesse riuscire a decollare. Bene, questo è il contesto di inserimento. Veniamo alla risposta. È evidente che l'abbruciamento dei residui agricoli determini, premettendo tutto quanto sinora ho detto, un inquinamento e che pertanto vada in un certo qual modo, permettetemi il termine, sostituita questa antica pratica dalle moderne pratiche agricole. A tutto questo aggiungo inoltre perché oggi, a differenza di prima, di tanto tempo fa, l'interazione tra il sistema urbano e il sistema ambiente e quindi l'agricoltura è più profonda, è più intrecciata. Spesso i fondi agricoli arrivano sin quasi nel tessuto urbano. Non è difficile trovare delle abitazioni al ridosso di campi coltivati e questo inevitabilmente impone una rifondazione della pratica di abbruciamento. Come Presidente del Consorzio Terre Campane e come tecnico, credo fermamente in un passaggio sostenibile di tutte quelle che sono le antiche pratiche agricole, non solo l'abbruciamento dei residui vegetali. Se si è sempre fatto così, nel tempo non è detto che si è sempre fatto bene. Ma tuttavia, credo, e in questo mi rivolgo all'assessore, che la soluzione passi necessariamente attraverso un dialogo con le istituzioni, un tavolo tecnico tra le imprese agricole, tra la politica e tra gli enti locali. Non è, io dico sempre, l'ordinanza di divieto dell'abbruciamento che risolve il problema. L'ordinanza è piuttosto un palliativo che serve forse a dividenziare il problema, ma non a risolverlo. E vengo alla risposta. Operazioni come la cippatura, come la trinciatura, lasciando in campo residui vegetali con conseguente apporto di sostanza organica, oppure le biomasse per la produzione di bioenergia, possono, anzi sono senz'altro, la risposta al problema dei fumi in agricoltura, dell'inquinamento d'agricoltura. Ma temo, senza rendere assessore economicamente sostenibile tali processi, quindi economicamente sostenibile tale nuova filiera, ecco il ruolo delle istituzioni, credo che alla fine restino solo belle parole. In questo, credo fermamente che la prossima programmazione, il PSR 2021-27, che poi partirà con due anni di ritardo, ma più che altro sarà una transizione, come diceva lei, ecco spero che in questo il PSR possa aiutare. Ecco, dottor Fuscole parla di vicinanza fra le istituzioni e gli imprenditori e questa è una novità proprio del mandato dell'assessore Caputo che ha creato il cosiddetto Agrintour, ovvero per la prima volta non sono gli imprenditori e gli agricoltori che vanno sulla regione, ma è stato l'assessore che è andato in giro per le imprese agricole a capire di cosa realmente avessero bisogno. Ecco, quanto tutto ciò l'ha aiutata a capire realmente le necessità della nostra terra e quanta differenza ha fatto anche per gli imprenditori? Per me è fondamentale, è assolutamente importante il confronto con gli imprenditori. Abbiamo già visitato circa 100 aziende, poi ci siamo bloccati in questo periodo di zona rossa, ma già da questa settimana riprenderemo il tour e andrò a visitare anche l'azienda di Francesco. Non so perché lo chiamo Francesco, ma va bene così. È una cosa davvero importante e la cosa più bella è che innanzitutto rende un po' meno arido anche il lavoro di scrivania, diciamo, toccare con mano, sporcarsi le mani, come si dice, in quel caso è un atto diciamo davvero di grande onore e forse la parte più bella di questa attività e io sto cercando di farla nel migliore dei modi. Poi soprattutto sto cercando di incontrare aziende piccole, aziende grandi, di tutte le dimensioni, donne. Vediamo dalle immagini da presenza. Ci sono davvero delle aziende bellissime, abbiamo tantissime donne impegnate in agricoltura per le quali stiamo iniziando a pensare anche a delle attività specifiche. Io penso che dobbiamo iniziare a essere maggiormente consapevoli della forza della nostra agricoltura. L'intuito che ci viene riconosciuto agli imprenditori campani è un intuito che purtroppo diciamo non siamo riusciti ancora a far manifestare, a rafforzare diciamo in modo tale che le imprese possano avere un feedback positivo dai mercati. L'obiettivo di tutto questo è conoscere davvero le esigenze delle imprese e insieme a loro scrivere le misure che poi servono a loro. Io voglio davvero confrontarmi con loro fino al giorno precedente all'emissione del bando. Questa è la cosa più bella e che forse potrà caratterizzare il mio mandato d'assessore. Io credo infatti che questa novità e questa innovazione del suo percorso per quanto riguarda la presenza in loco di ogni azienda e capire il mondo delle aziende agricole in tutti i settori dal casertano alla valenese al salernitano al napoletano eccetera costituiscono una novità ma una novità positiva perché per quello che diceva lei associata a una progettualità anziché partire dalla teoria alla pratica dalla pratica alla teoria queste inversioni di tendenza può produrre un avvicinamento anche delle giovani generazioni verso il mondo agricolo che come dire effettivamente come diceva lei presenta come regione campania un effettivo ampliamento di quelle sono le culture perché non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa prigiormente si trattava di vino e mozzarella o altro faccio per dire oggi invece abbiamo l'olio la produzione di olio che sta crescendo molto prodotti anche di frutta la cosa più bella che sto riscontrando è anche l'approccio che si ha al settore diciamo spesso adesso noi sappiamo dell'obiettivo che ci poniamo tutti quanti della sostenibilità ambientale della sostenibilità anche dal punto di vista della qualità delle produzioni rispetto alla funzionalità della salute umana molte di queste aziende sono più avanti anche della come dire della strategia che la regione campania sta mettendo in campo e da questo ne dobbiamo cogliere infatti dottor Fusco anche a lei faccio la domanda a entrambi perché siamo in chiusura della trasmissione per esigenze di tempo che naturalmente il nostro spazio a disposizione sta per terminare in questa prospettiva diceva l'assessore l'appuntamento con Dubai che lo collè l'expo che fra poco insomma almeno pandemia dovrebbe svolgersi regolarmente eccetera quali prodotti e quali eccellenze campane in che modo possiamo promuovere la nostra presenza campana a Dubai ecco insomma gli emirati arabi che per eccellenza sono come dire l'antonomasia di tutte le novità culturali e anche di tecnologia prima dal suo punto di vista che già fa molto brevemente però dottor Fusco cortesemente e poi l'assessore noi abbiamo una biodiversità in campania unica come diceva l'assessore dobbiamo solo rendercene conto i prodotti da frutta in guscio nocciole castagne ma mi riferisco anche ai prodotti olivicoltura la birra che sta prendendo piano piano diciamo la sua importanza il vino noi abbiamo dovunque ci giriamo in campania vediamo agricoltura dobbiamo soltanto rendercene conto Assessore cosa porteremo alla nostra a Dubai come campania per le eccellenze dell'agricoltura Dubai Emirati Arabi sono l'hab più importante al mondo almeno per una parte del mondo dal punto di vista proprio di come crocivia di una serie di mercati quindi noi dobbiamo rafforzare la nostra presenza per essere lì però dobbiamo anche rafforzare il nostro sistema imprenditoriale dobbiamo avere una maggiore un maggiore peso anche dal punto di vista del volume delle nostre delle nostre imprese della dimensione proprio delle nostre imprese da questo punto di vista dobbiamo favorire l'aggregazione che diciamo noi abbiamo tante bellezze abbiamo anche qualche problemina in campania siamo tutti campania ma in genere nel meridione siamo un po' abbastanza egoisti come dire ognuno di noi è pieno di orgoglio quindi a volte non rinuncia ad una parte della propria autonomia gestionale per fare un passettino più avanti dobbiamo però sforzarci di farlo da questo punto di vista i consorsi possono dare una mano le organizzazioni dei produttori in alcuni settori lo fanno già c'è grande possibilità e soprattutto dobbiamo fare in modo che i mercati internazionali percepiscano davvero l'agricoltura campana come un'agricoltura di grande qualità ci abbiamo tutte le premesse per sfondare e Dubai potrà essere il trampolino di lancio ecco onorevole Caputo io la ringrazio e la ringrazio anche per essere stato nostro ospite ringrazio anche il nostro ospite in collegamento il dottor Gennaro Fusco arrivederci grazie a voi vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook che torneremo qui settimana prossima che la trasmissione è realizzata in collaborazione con EPSPA azienda leader nel catering e nella ristorazione e ringrazio come sempre il nostro 0039 Hair & Beauty Concept Palma Style ovviamente ringraziamo l'esperto della società civile l'avvocato Michele Cutolo buonasera a tutti ti rispetto alla prossima arrivederci e buona serata ciao in collaborazione con Kerr l'avvocato 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 Grazie a tutti.